Salve a tutti, sono Gianfranco Marini e benvenuti a questa seconda parte della lezione su Kant, intitolata appunto La Mossa di Kant, che è di introduzione alla rivoluzione copernicana operata da Kant intorno al problema della natura della conoscenza e della partita, quindi, della conoscenza che si sviluppa da Platone a Kant, come abbiamo visto nella prima parte di questa lezione. Dopo che Hume, con la sua mossa, ha messo fuori gioco il principio di causalità, dimostrandone l'infondatezza, e ha messo fuori gioco la possibilità di una conoscenza della realtà e più esattamente di una corrispondenza tra il nostro sapere e la realtà, secondo i principi del realismo gnosiologico, della teoria della verità come corrispondenza, Kant, risvegliato, come lui stesso dice dalla lettura di Hume, dal suo sonno dogmatico e metafisico, cerca di rispondere alle obiezioni di Hume. Bene, questa sua risposta io l'ho rappresentata col cavallo degli scacchi, che è appunto un modo molto atipico di muoversi, perché Kant appunto darà una risposta del tutto particolare che cambia i termini della questione. Prima di tutto la prospettiva inaugurata da Kant è il criticismo, in cui l'obiettivo fondamentale, almeno per quanto ci interessa nella ricostruzione di questo dibattito, è l'individuazione di quelli che sono i limiti della conoscenza. Bene, i limiti della conoscenza, come aveva detto Hume e come avevano insistito gli empristi, soprattutto inglesi, sono dati dall'esperienza. Quindi la nostra conoscenza non può andare al di là dell'esperienza. Kant accetta questo principio. Tuttavia, all'interno di questi limiti, e questo l'obiettivo che Kant si propone di perseguire, la nostra conoscenza è universale, necessaria e soprattutto oggettiva, contrariamente a quanto appunto afferma Hume, che fondamentalmente basa la nostra conoscenza sulla psicologia, cioè su delle abitudini, su degli abiti mentali, e quindi è razionalmente ingiustificabile la nostra conoscenza, perché una giustificazione psicologica non è certo una giustificazione razionale. Bene, per dimostrare e per perseguire questo suo obiettivo, ecco che Kant individua l'esistenza di principi a priori, cioè individua l'esistenza di schemi mentali comuni a tutti gli esseri umani, che noi utilizziamo per ordinare i fenomeni. Nella vigneta qui accanto vediamo Hume, che ha appena eseguito il suo colpo con le sue famose palle da biliardo, ricordo che Hume smonta il principio di causalità, ne mostra, almeno dal suo punto di vista, l'illegittimità proprio con un esempio in cui i protagonisti sono due palle da biliardi. E qui Hume sta dicendo a Kant, a lei la mossa signore, a lei il colpo signore, e Kant gli risponde, sto pensando, e vediamo che Kant ha un cappello, un cappello che indossa, in questo cappello, che costituisce la struttura mentale sua, ma di tutti gli uomini, perché è comune a tutti gli uomini, vediamo sono indicati spazio-tempo e dodici categorie, unità, realtà, sostanza, eccetera, divise appunto in quattro gruppi, qualità, quantità, relazioni e modalità. Cosa rappresenta questo cappello? Cosa rappresentano spazio-tempo e le dodici categorie? Rappresentano una griglia, una struttura, un ordine, che noi applichiamo ai fenomeni per organizzarli, perché i fenomeni, quelle che Hume chiamava impressioni, insomma il risultato delle nostre percezioni sensibili, sono un insieme caotico. Quindi questi principi a priori non derivano dall'esperienza, secondo Kant, ma si applicano all'esperienza, si applicano a ciò che percepiamo. Ecco che Kant qui rinuncia a quella che è la pretesa della metafisica di applicare i principi a priori a ciò che sta al di là dell'esperienza, quello che Kant chiamerà la cosa in sé, alla realtà considerata in sé stessa. No, questi principi hanno una funzione precisa, la loro funzione è ordinare il materiale sensibile e quindi possono essere usati solo in riferimento all'esperienza, organizzandola secondo un ordine a priori. In quanto questo ordine a priori e in quanto questo ordine è comune a tutti gli esseri umani, dà luogo a una conoscenza che è universale e necessaria, ma che è anche oggettiva, perché l'ordine con cui alla fine i fenomeni sono organizzati e che quindi rappresenta quelle che sono le leggi dei fenomeni, le leggi dell'esperienza che poi saranno le leggi della scienza, è un ordine appunto oggettivo, è l'ordine dei fenomeni, ma è un ordine posto da noi, per così dire. In questa diapositiva, eravamo rimasti qui, andiamo avanti, in questa diapositiva vediamo quella che la mossa decisiva di Kant, lui stesso ritiene di essere autore di una vera e propria rivoluzione in campo filosofico che paragona la rivoluzione di Copernico, è un paragone che si regge su una analogia, questo è il sistema copernicano, in cui è rappresentato il sistema solare, che si chiama così da Copernico in poi, perché è il sole posto al centro, la terra è il terzo dei pianeti che ruotano intorno al sole, cosa ha fatto Copernico, sottolinea Kant? Ha ribaltato il rapporto tra il sole e la terra, mentre prima era la terra al centro e quindi l'osservatore, gli esseri umani che osservavano il sistema dei pianeti erano al centro di questo sistema, il sistema tolemaico, adesso sono in periferia, adesso il sole è al centro. Bene, dice Kant, in campo filosofico, relativamente al problema della conoscenza, io sto operando una sorta di rivoluzione copernicana, quindi di capovolgimento, di ribaltamento. Quali sono i due termini del rapporto che viene capovolto? E viene capovolto il rapporto tra la mente e la realtà. Fino a Kant il problema è comprendere come la nostra mente possa adeguarsi alla realtà, cioè la verità è data dal grado in cui la nostra mente si avvicina a riprodurre dentro di sé, per così dire, la realtà. Tanto più la mente riproduce fedelmente questa realtà, la rispecchia, tanto più vera sarà la conoscenza di cui essa è portatrice. Ma non è sempre così, dice Kant, almeno in parte, almeno partiamo da questa ipotesi, dice Kant, almeno in parte è la realtà che si adatta alla nostra mente, è la realtà che è formata, costruita, per così dire, dalla nostra mente. Non del tutto, altrimenti cadremo in una posizione di solipsismo, si dice in filosofia, per cui la realtà è un parto dalla mia mente soggettiva, ma una parte di ciò che noi chiamiamo realtà è il risultato di un processo di costruzione operato dal nostro intelletto, dalla nostra mente. Bene, prima di vedere un esempio, vediamo di chiarire che cos'è allora la conoscenza per Kant. Per Kant la conoscenza ha due componenti, cioè il risultato dell'integrarsi di due elementi. Una materia, un contenuto, è il contenuto della conoscenza, la materia della conoscenza, Kant usa il termine materia, è dato dalle impressioni sensibili, cioè da quelli che sono i risultati delle percezioni che noi abbiamo attraverso i nostri organi di senso. Queste percezioni producono una serie di impressioni sensibili che sono mutevoli, cambiano continuamente e che sono caotiche. Da Platone in poi, appunto, il sapere sensibile, chiamato da Platone opinione, non può fondare un sapere universale certo proprio perché le impressioni sensibili cambiano da persona a persona, da soggetto a soggetto, nella stessa persona sono mutevoli, sono caotiche e via dicendo. Bene, dice Kant, ma la conoscenza è rappresentata anche da una forma. La forma, cosa intende Kant con forma? L'ordine con cui queste percezioni sono organizzate, quello che i greci chiamavano il logos. Bene, questa forma è una struttura a priori, quindi che non deriva dall'esperienza, altrimenti sarebbe soggettiva e mutevole anch'essa, è una struttura a priori di cui il nostro intelletto è dotato, quindi una sorta di schema, struttura, casellario, sistema di relazioni, chiamiamolo come vogliamo, con cui la nostra mente ordina la realtà. Vediamo adesso un esempio. Nei manuali si fanno vari esempi, le categorie di Kant, questi principi a priori di cui siamo dotati, sono come degli occhiali che indossiamo colorati di celeste, per cui vediamo tutto in celeste, o sono come un computer. Usiamo anche noi un esempio. Ecco, aprirò il mio vecchio Word 2003 e mi comparirà un foglio bianco. È la tabula rasa, come dicevano gli imperisti, è la nostra mente che è priva di qualsiasi idea innata, è priva di qualsiasi contenuto. Tutti i contenuti mi derivano dall'esperienza. Nell'analogia tutti i contenuti derivano, per esempio, dalla tastiera con cui io scrivo le lettere. Qualcuno scrive sul mio computer, con la mia tastiera e col mio Word, io non so cosa scriverà. Quindi non so quali saranno le percezioni che andranno a iscriversi in questo foglio bianco. Però posso dire a priori, è con assoluta certezza che qualunque cosa, chiunque scriverà su questo foglio di Word, sarà necessariamente scritta in Time New Roman, punto 12, allineato a sinistra, con interlinea 1, con margine destro di 2 cm, di margine sinistra di 2 cm, eccetera, eccetera, eccetera. Per esempio scriviamo questa frase, questa frase conferma quanto io ho appena detto, effettivamente non sapevo cosa sarebbe apparso, in realtà lo sapevo perché l'ho incollato io ovviamente, ma nell'esempio stiamo immaginando una persona qualsiasi che sta scrivendo col mio computer, ma ho esattamente detto quali sarebbero state le caratteristiche di quanto lui avrebbe scritto, sarebbe stato scritto in punto 12, in Time New Roman, eccetera, allineato a sinistra e così via. Cosa significa questo esempio? Significa che come questo Word è configurato, cioè è settato in modo da scrivere in nero a punto 12 in Time New Roman, così la nostra mente è configurata in modo tale da ordinare secondo certi schemi, secondo certe caratteristiche, secondo certe relazioni le impressioni che noi percepiamo. Per esempio noi abbiamo una regola che è quella del rapporto di causa-effetto, secondo cui qualunque cosa percepiamo stabiliamo, date certe condizioni, un rapporto necessario di causa-effetto tra due fenomeni che sono contigui e che sono successivi l'uno all'altro secondo un rapporto di se allora. Se A ne consegue B. Ecco, questa è una regola del nostro intelletto che noi applichiamo per ordinare i fenomeni, perciò necessariamente tutti i fenomeni soggiacciono al principio di causalità. Non perché questo sia oggettivo, cioè non sappiamo se nella realtà considerata in se stessa le cose stiano davvero così, ma perché così funziona la nostra mente. Quindi per Kant il nostro intelletto è come il nostro world, ha una sua configurazione e tutte le menti di tutti gli uomini sono configurate allo stesso modo. Quindi mentre il filosofo Iumiano non sarà mai sicuro, constatato un certo rapporto di cause e di effetto tra due palle di biliardo, tra il calore e la dilatazione del metallo, non sarà mai sicuro, non potrà mai dire con certezza che sarà così anche domani, ma dovrà ogni volta ricominciare da capo, per così dire. Il filosofo Kantiano invece ritiene di poter fondare l'universalità e la necessità della conoscenza su questa mossa appunto, su questi principi a priori con cui noi ordiniamo la conoscenza. E siccome noi questa conoscenza la ordiniamo in questo modo, essa è oggettiva, non è il fatto che tali principi siano principi della nostra mente che li rende meno oggettivi. Così come il fatto che Word sia configurato per scrivere in Time New Roman punto 12, è qualcosa di oggettivo, perché qualunque cosa scriviamo, non so cosa scriverò, ma sarà necessariamente in Word in Time New Roman punto 12 e io vedrò un carattere scritto in Time New Roman, cioè è oggettivo. Così come è oggettivo, ho quell'ordine dei fenomeni con cui io li organizzo. Quindi il fatto che sia la mia mente a organizzarli non significa che poi l'ordine che ne consegue sia per questo meno oggettivo. Bene, a questo punto ritorniamo su questo termine, anzi su questa espressione, principi sintetici a priori. A priori vuol dire che non derivano dall'esperienza, sono un patrimonio comune a tutte le menti degli uomini. Sintetici vuol dire che sono oggettivi, vuol dire che hanno un riscontro empirico perché si applicano all'esperienza. E quindi Kant è riuscito, dal suo punto di vista, a dimostrare, a salvare il principio di causalità e ad evitare l'esito scettico di Hume. Ma ha pagato un prezzo, un prezzo molto alto. Ha rinunciato alla conoscenza della realtà, cioè ha rinunciato a quello che era il sogno, l'ideale, l'obiettivo da più di duemila anni di filosofi come Aristotele, come Platone, come Cartesio e tanti altri. Quella che Kant chiama la cosa in sé, das Ding an sich in tedesco, sarà semplicemente qualcosa di inconoscibile. Tutto ciò che noi conosciamo in questo Kant dà ragione a Hume, sono delle impressioni. Noi ordiniamo queste impressioni, che sono la materia della conoscenza, con una forma che è a priori. Grazie a questa forma a priori, che non è da confondere con le idee innate, in quanto, come abbiamo visto, è priva di contenuto la mente, anche per Kant, ma è dotata soltanto di strutture che ordinano i contenuti. Dicevo, grazie a questa forma a priori, Kant salva l'universalità, necessità e oggettività del conoscere. Il prezzo dal pagare è la rinuncia definitiva, assoluta, almeno per Kant, a conoscere la realtà, la cosa in sé stessa. Come le cose sono in sé stesse, mai lo sapremo. La cosa in sé è inconoscibile per Kant. Bene, con Kant si conclude un lungo percorso che attraversa i secoli e che porta a un risultato che in parte dà ragione, indubbiamente, a Hume. E con Kant però si riconfigura, cambierà in seguito, cambieranno i termini del dibattito sulla natura del conoscere. Quindi da questo punto di vista, Kant è una tappa fondamentale, è quello che si dice uno spartiacque. Spero di avervi chiarito e non confuso le idee. Vi ringrazio per la pazienza e buono studio di Kant e buona rivoluzione a tutti.